non saprei come presentare Maurizio perché lo conosco da più di dieci anni quindi ormai siamo Wordpress Buddies lui lavora con Wordpress da tantissimi anni dal 2005 ha iniziato a usarlo e ha organizzato Work on Bologna nel 2012 e credo sia lì che ci siamo conosciuti e che dire oggi ci parlerà di come costruire da zero un tema che usa il full site editing con Gutenberg quindi facciamo un bel applauso a Maurizio Allora iniziamo bella questa voce robotica prova prova allora ragazzi oggi io vi indicherò la via ok? oggi io vi indicherò la via che voi siate Jedi e usate PHP in purezza o che siate Sith passati al lato scuro di Elementor oggi parleremo di quella che è la via vabbè la presentazione me l'hanno già fatta lavoro con Wordpress voglio faccio finta di essere un maker la domenica suona la chitarra cagate allora è un talk introduttivo ok? perché non si diventa mandalo piano in 20 minuti quindi arrivati a casa iniziate a lavorare e studiare cos'è full site editing? allora la definizione così capiamo un pochino un insieme di funzionalità che potenzialmente perché dipende dallo sviluppatore che ha fatto il tema promette la modifica di tutte le parti di un sito web e non solo dell'area attraverso l'uso dei blocchi Gutenberg quindi con Gutenberg noi lavoriamo all'interno di un box no? che è il nostro content con full site editing portiamo Gutenberg nel header nel footer nella sidebar un po' dove vogliamo e non è che full site editing è uscito l'altro giorno sono già tre anni che lo sviluppano dal 2021 ma diciamo solo adesso incomincia a diventare usabile dico incomincia perché qua spero che non ci sia nessuno di automatic è ancora un po' acerbo ma dobbiamo incominciare a utilizzarlo perché se vogliamo poi proporlo ai nostri clienti se vogliamo conoscerlo a fondo allora non aspettiamo che lo usino già tutti facciamo noi qualcosa di figo innovativo incominciamo a costruire dei temi che usano questa tecnologia e così saremo avanti ad altre persone ma quindi full site editing un page builder sì e no nel senso che Gutenberg ha introdotto all'interno di wordpress un sistema basato su la modifica dinamica del dom usando delle librerie che si chiamano react lui semplicemente ha esteso questo approccio anche oltre quello che è appunto l'area di contenuto ma mentre un page builder lavora all'interno della pagina adesso poi qua lo vedremo noi qua lavoriamo sempre con la struttura di wordpress quindi header footer sistemi di template ma lavoreremo con il sistema che Gutenberg ci ha insegnato a utilizzare quindi è un page builder no prende alcune idee dai page builder e secondo me potenzialmente le può migliorare da dove partiamo sì il nuovo tema di wordpress 2023 in parte lo utilizza ci sono in realtà dei ragazzi che hanno già fatto delle cose abbastanza fighe con full site editing e qua io vi do tre template che possono darvi un'idea di quelle che sono le funzionalità con queste con queste tre siti già qualcosina si può incominciare a fare e soprattutto stanno continuando a sviluppare no? quindi questa roba qua è ferma un mese fa magari sono già migliorati rispetto a come li ho visti io e soprattutto domani sicuramente c'è il quarto tema ancora più bello che io non conosco ma nella pratica che cosa cosa succede no? io adesso ho detto tante parole allora fondamentalmente quando noi abilitiamo un tema full site editing questo è quello che succede cioè sotto aspetto ci sparisce tutto ok? abbiamo solo più temi ed editor temi per poterli cambiare editor se schiacciamo editor andiamo in questa seconda schermata che è la schermata appunto del designer dove funziona il site builder quindi raga niente più personalizzatore niente più widget niente più menu classico quasi niente più hp quasi perché poi vedremo un po' come metterci un po' le mani queste robe a me hanno spaventato tantissimo bisogna prenderci la mano ma ripeto questa è la via quindi o noi cominciamo a entrare in quest'ottica oppure continuiamo a rimanere come quelli che usano il bakery page builder ancorati a siti di 5-10 anni fa come funziona? allora si arriva in questa schermattina con l'editor e vi dicevo rispetto ai page builder lui comunque ti propone la sua logica cioè quella dei template quindi proprio quella dei template gerarchici e quella delle parti di template e quindi noi avremo la possibilità se il tema lo consente di modificare tutti i file di template quindi se voi siete degli sviluppatori di temi sapete che questi sono in realtà i nomi delle pagine che voi andate a creare all'interno del tema perché le cose funzionino in determinati modi quindi abbiamo la 404 quando succede quando non troviamo la pagina abbiamo l'archivio per mostrare l'elenco dei post delle tassonomie la pagina l'indice che cosa succede nella pagina la pagina di ricerca il singolo articolo il single product se c'è WooCommerce quindi noi qua abbiamo diciamo così tutte le pagine a disposizione quando partiamo da un tema da zero queste le dobbiamo creare noi però questo è come questo è uno dei temi che vi ho fatto vedere prima che ha già predisposto una serie di layout mentre nelle parti di template che sono quindi quelle che si ripetono in ogni pagina abbiamo adesso qua due esempi footer header header sticky perché hanno fatto due template diversi per fare in modo che l'aspetto se rimane sticky fermo sia diverso da quello normale ma nulla ci vieta poi di aggiungere o un template personalizzato e dopo lo vedremo o delle parti di template che andremo a riutilizzare in tutti i blocchi in tutti i template cioè io mi posso fare una sidebar piuttosto che mi posso fare che ne so l'elenco degli ultimi articoli piuttosto che il box autore da mettere in fondo cioè posso devo cercare come ogni buon programmatore di evitare di ripetere 50 volte il codice tutto ciò che è ripetibile due o più volte tanto vale fare un template part e così semplicemente lo includiamo e quando lo modifichiamo viene cambiato in tutte le parti facciamo un esempio ok io ho cliccato su indice lui mi dice vabbè questo l'ho utilizzato come template alternativo per tutte le pagine quando non è definito un template più specifico quindi il tema minimale prevede una index e che cosa succede? che qua si attiva Gutenberg quindi se noi siamo già abituati a utilizzare Gutenberg in realtà siamo abbastanza a casa si possono modificare i template di pagina di default del tema che cosa vuol dire? se il tema ha previsto una index io col full site editing la posso modificare lo vedremo si possono creare delle nuove parti di template vabbè qua vi ho già fatto lo spoiler anche se non sono gestita dal tema si possono usare dei blocchi extra o personalizzati? allora sì un'altra cosa figa quindi del full site editing è questo suo approccio a overload cioè io ti propongo un default ma tu poi lo puoi personalizzare e cambiare ok? quindi se il tema ha una pagina singola che mi piace abbastanza ma mi manca un blocco o devo toglierne un pezzo allora io tramite direttamente l'interfaccia di Gutenberg mi posso andare a modificare quel template me lo faccio come voglio e lui lo gestisce come overload quindi non devo più andare nel tema a modificare il la parte il codice di PHP o utilizzare degli hook lo faccio direttamente da qua da dove partiamo? allora adesso facciamo un esempio di un tema minimale ma questo è solo l'inizio ok? questo non vuole essere un tema definitivo non è assolutamente a livello di quei tre che vi ho fatto vedere però adesso sono passati dieci minuti praticamente io ho ancora cinque minuti poi dobbiamo fare le domande quindi non è che allora questo è il mio tema minimale abbiamo il nostro function e il nostro style ho creato un index HTML sotto la cartella template ah l'importante è la naming convention sotto template ci vanno i file del tema sotto parts ci vanno le parti che riutilizziamo function è un file standard nei temi di wordpress style pure c'è un nuovo file tema.json che mi dà tutta una serie di configurazioni sul tema mi dice che ne so la tipografia i set di colori posso configurare davvero un sacco di cose già solo parlare di questo di questo tema cioè potremmo stare qua due ore guardando la documentazione quindi ragazzi io questa roba la devo saltare ma andate a vederla la documentazione gestita probabilmente da quella ragazza di prima cioè hanno fatto veramente un lavoro grandioso c'è veramente tanto da leggere con tanti esempi io mi fermo sul tema .gson giusto per farvi un esempio devo scrivere due cose quindi imposto un po' il layout quindi dico che di base è a 980 ma se con le opzioni che mi dà Gutenberg lo voglio fare wide arrivo fino a 1600 quindi la configurazione del tema .gson è un file .gson che oggi andiamo a editare almeno io sono andato a editare con un notepad ma non escludo che domani arriverà un plugin o un configuratore per cui mi dirà quali parametri vuoi che cosa vuoi che faccia pum sputato il file .gson allora qua adesso ragazzi non vi spaventate nulla di che allora riga 1 uso il codice di Gutenberg dico senti riga 1 per favore mi puoi includere la parte che si chiama header nella riga 2 aggiungimi per favore le categorie incomincio creare il blocco faccio un blocco query dove giro tutti i post chiudo la mia query e aggiungo il footer questo è il nostro header inizio sezione fine sezione uso i paragrafi normali di Gutenberg questi pezzi di codice se avete provato a giocare un po' con Gutenberg teoricamente li dovreste vedere mi sono andato nel function ad aggiungere due cose importanti ok cioè quindi dobbiamo aggiungere il supporto per i blocchi ed è quella la magia che fa scattare il tema full site editing e poi mi sono andato ad aggiungere ovviamente il foglio di stile altrimenti andavo non andavo da nessuna parte questo è il risultato quindi ho detto solo una stupidata prima scusate questo questo site title e la tagline e il titolo del blog ovviamente nell'header cosa che poi noi vediamo qua ok quindi questo è il mio esempio inizio sezione header fine sezione header con il con il nome del blog e qua ho fatto un loop quindi quanto codice PHP ho utilizzato? giusto due cose per dire a wordpress guarda che questo tema supporta full site editing e guarda che mi devi andare a prendere lo stile cosa che io non ho usato perché avete visto praticamente qua di stile non c'è non c'è niente che cosa succede quando noi ne vediamo solamente uno e questo è il risultato perché avendo usato il il loop standard di wordpress lui sa che quando sono dentro la pagina singola me ne deve prendere solamente uno quindi io con l'index ho risolto sia sia la parte di listing che domani potrei chiamare archive e gestirmi un po' meglio e fare due cosine un pochino più carine sia la parte del singolo articolo che potrei spostare in single e andarmi a gestire un po' meglio allora ma io io che sono Jedi e col PHP mi piace sporcarmi le mani dico no ma io non posso fare tutte queste cose solo così no allora come facciamo a creare dei template ibridi siete ancora in tempo uscire se volete allora mi sono creato un template mio ok template test dove renderizzo un blocco e utilizzo get header get footer standard di wordpress questo get header e get footer vanno semplicemente a prendere effettivamente i template di full site editing che ho creato prima e io sono proprio andato a fare un blocco ma qual'era così importante è che io nella riga 7 o nella riga 15 posso aggiungere tutto il codice PHP che voglio e fare tutto ciò che voglio cioè io qua vi ho solo fatto vedere si possono fare delle cose anche un po' un po' questo è l'header quindi che io ho creato quindi vedete block header area quindi lui va a prendere proprio la parte che ho creato con il full site editing nel footer block footer area con il mio WP footer così sono diciamo più all'interno di una situazione standard ho creato anche la parte di content ok quindi che cosa si vede all'interno dell'articolo torno indietro vedete io ho creato WP post content dove ho creato come si deve vedere il contenuto e quindi sono andato sotto parts a disegnare com'è il mio contenuto quindi ho detto che ci deve essere l'immagine non ci deve essere il link sul titolo del post e ci deve essere il contenuto ho fatto poi leggendo un po' di più ho detto aspetta un attimo facciamo una versione ancora più figa invece di quel invece di questo do block dove ho fatto il gruppo dove ho fatto tutto sto schifo possiamo migliorarlo? sì lo possiamo migliorare dicendo proprio esegui un blocco che si chiama content che è quello che ho creato prima e quindi vado nel mio nel mio singolo seleziono il mio template perché io ho creato un template custom quindi lo andiamo a selezionare e questo è il risultato ma il mio customizer cioè voglio dire c'erano dei temi che avevano un customizer io ci ho perso davvero le giornate sul customizer ditemi grazie perché posso rinunciare ai menu posso rinunciare ai widget ma diciamo per il momento ci sono davvero troppe cose nel customizer utili in tanti temi e quindi ho cercato un modo per per riattivarlo siamo a 17 minuti quindi siamo assolutamente in orario due reference allora due link ma in realtà se chiedete a google vi vomita decine decine di ragazzi che hanno incominciato a fare esperimenti c'è anche un bellissimo sito che è proprio full site editing che addirittura ha proprio fatto pensato a una specie di corso che gli sviluppatori possono eseguire passo passo in cui vediamo pezzettino pezzettino le cose come come crearle e seguendo i suoi esempi io mi sono trovato bene e ho capito molte cose perché c'è proprio l'esempio pratico mentre la documentazione ti dice guarda c'è anche quell'opzione puoi fare anche questo su questo fullsiteediting.com c'è qualche esempio un pochino più pratico allora io avrei finito adesso passiamo alle domande ma prima vi dico questo allora chi di voi abbandonerà Elementor per passare al full site editing avrà questo meraviglioso oggetto chi di voi si farà convincere a non utilizzare solo PHP e quindi sarà il Jedi della situazione avrà questo bellissimo oggetto che cosa sono ve lo faccio vedere poi partiamo con le domande questo è il preventivatore perché voi adesso non sapete come vendere full site editing no? ok allora attenzione questa è tecnologia mandaloriana e questo è stampato in Berser Barker non mi ricordo il materiale allora vanno tirati allora due due dadi se il tema non è particolarmente complicato tre dadi se quello che vendete è complicato dopodiché decidete se moltiplicare per mille o per cento e poi questo è ragazzi allora fate le domande e chi di voi si convertirà avrà questo meraviglioso oggetto la mia stampante ne ha stampati quasi 20 quindi forza vai allora tu sei Jedi o Sith? io per ora prova prova io per ora sono agnostico mi riservo di provare a fare le prove sull'FSE e poi va bene per ora rimango ad Elementor metto le mani rimani a Elementor allora non te lo posso dare questo ascolta no in realtà hai già parzialmente risposto alla mia mordace curiosità perché la mia domanda riguardava il customizer non mi è chiaro però se con quella stringa di PHP riattiviamo il customizer dal menu con tutte le sue funzioni ovviamente annetto che il tema le supporti cioè non è che il customizer si inventa delle cose però anche solo WordPress nel customizer ci permette di inserire un pezzo di CSS custom modificare due o tre cose quindi quelle le troviamo però questa è una limitazione di WordPress nel senso che io il CSS posso inserirlo direttamente nel functions via dovresti farlo dovresti farlo però il customizer diciamo ci dà anche solo la possibilità di selezionare qual è la pagina con cui parti cioè ci dà due o tre cose esattamente era la mia unica domanda ti ringrazio se riesco a prenderlo si grazie infatti non ci sono riuscito ha detto che ci prova ha detto che ci prova è da sit quello lì vai altra domanda ciao intanto grazie Emile per il talk io non uso Elementor e non lo voglio usare allora lui il primo Jedi signori bravo uso Gutenberg con soddisfazione fino a quando do in mano il progetto al cliente e vede che può fare mille cose con Gutenberg e se il sito è stato progettato con un layout con wireframe mockup è stato sviluppato un tema custom poi dice posso fare questo lo faccio e manda il layout in vacca e sto quindi sono ancora legato ad ACF per questa cosa e ho valutato anche di bloccare tutti i blocchi Gutenberg e lasciare disponibili solo alcuni ti chiedo se però non ho mai sviluppato un tema col full site editing ti chiedo se hai esperienza diretta di come eventualmente limitare poi le aggiunte del cliente allora il mio approccio più che limitare è formarlo quindi fargli capire che cosa può fare e che cosa sarebbe meglio non facesse quando però in una pagina ci sono diversi blocchi Gutenberg che quindi basta che tocchi una cosa e smonta tutto io ho due approcci che sono gli creo un insieme di blocchi un pattern in modo che se lo smonta se lo reinserisce oppure gli creo un blocco custom dove gli do solo i due o tre parametri che mi serve e poi all'interno del mio blocco scrivo del codice mio oppure riutilizzo i blocchi fatti tra l'altro ACF ha un ottimo sistema di gestione dei blocchi quindi in una pagina complessa è ovvio che limitare il numero di blocchi e la possibilità di far casino è diciamo una cosa che può andare bene se chi hai davanti è una persona che smanetta e dice vediamo che cosa succede quindi teniamoci un backup nel senso creati dei template di pagina dei pattern per potergli rimontare il tutto tra l'altro creare il pattern è semplicissimo una volta che ti sei fatto tutti i blocchi ti copi l'html insomma esattamente blocco riutilizzabile vai tu Gedi o Sit tu sei vicino al tuo amico Sit sarai Sit anche tu per forza avevo detto che era una via di mezzo ah è vero è vero allora scegli cosa Gedi Gedi ok vai ma noi qua tentiamo comunque la mia domanda è molto più banale perché devo studiarla sta cosa non l'ho mai provata ho visto che hai messo html però c'era della parte commentata il senso della parte commentata qua no no qua questo allora questi in realtà non sono commenti cioè o meglio in html sono commenti ma per Gutenberg in realtà sono dei tag che fanno delle cose quindi il parser di Gutenberg va proprio a analizzare questo tipo di tag e fa delle cose per esempio alla riga 3 quel commento che non è un commento dice buttami la features image stampami la features image esattamente come in php sarebbe the features image questo è proprio degli editor Gutenberg se allora Gutenberg ti presenta un'interfaccia grafica ma in alto a destra c'è un pulsantino che ho scritto vista codice e questo è quello che lui scrive lo ritropongi dentro con e si io praticamente sfrutto ciò che lui scrive sotto il cofano e lo devo utilizzare per creare le mie pagine o le mie cose tutto super documentato e c'è tutti questi blocchi c'è quindi riga 4 vp post title è esattamente il the post title cioè è esattamente quello il funzionamento quindi se mi creo un blocco custom io poi avrò un commento che posso inserire si devi utilizzare come ho fatto io il do block per andarlo a eseguire è un po' come un do shortcode cioè devi dare a wordpress il gli devi dire guarda che devi interpretare ciò che ti scrivo come se fosse un blocco vai un'altra domanda laggiù due due allora ragazzi qua se lo lancio per ora rischiamo di formare qualcuno quindi c'è la valletta qua che ve li porta grazie e la mia più che altro è una richiesta su qual è il migliore approccio perché nell'ultimo progetto in azienda siamo passati appunto al full site editor con esiti a tratti disastrosi perché fondamentalmente cioè sostanzialmente anche noi partivamo da wireframe mockup e dovevamo diciamo scrivere parti molto customizzate componenti con un markup molto customizzato e così via e quindi cosa abbiamo fatto considerando che le nostre competenze sono principalmente orientate al PHP ci siamo messi per ogni componente per ogni elemento a sviluppare in PHP usando ACF come ponte per sviluppare blocchi in PHP quindi senza andare nella parte React ma rimanendo su PHP aggiungendo tutta una serie di campi ai nostri blocchi e pari 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 abbiamo fatto i template HTML ovviamente su codice perché ce lo dovevamo passare all'interno del team nella repo già lì è stato un delirio perché perché se incominci a averci blocchi con data field key che ti passi cioè ti si incrociano gli occhi e invece mi sembra di capire dalla presentazione che hai fatto che l'approccio che suggerisci te è non fare mille blocchi per tutti i componenti che poi piazzi tutti all'interno dei template HTML ma se vuoi utilizzare il PHP è meglio fare diciamo sviluppare i template in PHP richiamando ad esempio i parts che invece noi effettivamente abbiamo usato abbiamo usato poco cioè quindi quello che consigli tu è questo cioè se io devo rimanere nel campo PHP allora parliamo di usare la parola consiglio e insomma faccio non sono del tutto sicuro che questo sia un buon consiglio perché ripeto io non ho anni di esperienza con full site editing quindi questo è quello che nella mia fase di studio pre talk e per preparare il talk ho pensato fosse la cosa più furba cioè la mia prima esigenza è stata sì ma io non voglio fare solo blocco voglio continuare a usare un po' di PHP come faccio? allora ho risposto alla mia esigenza e mi sono trovato la mia via ok? non so se questa è la strada giusta che va bene per tutti siamo in una fase in un momento in cui è pura sperimentazione è ancora acerbo come sistema io personalmente anche qua c'è qualcuno di automatic qua? puoi uscire un secondo? allora per un sito di produzione grosso io ci penserei dieci volte ok? ma questo non vuol dire che non devo iniziare a usarlo sperimentarlo ok? perché magari per il mio blog personale o per un progetto più semplice che è una landing page incomincio a buttarlo di faccio esperienza quindi il consiglio è iniziamo a capire come funziona capiamo le logiche cerchiamo di vedere come utilizzarlo per assurdo anche in maniera più ibrida possibile rispetto al passato e poi le cose col tempo insomma diventeranno teoricamente sempre meglio ricordo la prima versione di Gutenberg che era da mettersi le mani ai capelli adesso boh chi mi dice ma io con Elementor faccio delle robe che no no le faccio anch'io con Gutenberg vabbè comunque tu sei Jedi no hai detto PHP eh balletta dov'è la balletta? e balletta distratta? c'era un'altra domanda lì? vieni valletta no solo una precisazione qualcuno prima ha detto nel customizer ci manca il CSS delle possibilità da WordPress 6.2 ci sono queste opzioni nei global styles ok full site editing global styles in alto a destra c'è un menu un po' nascosto ma si può aggiungere global CSS per il sito non lo sapevo e l'ho appena scritto nello Slack italiano di WordPress sul canale FC grazie cos'è anche ah sì diciamo come limito il cliente che fa i danni c'è anche block locking il template locking e quindi questa è un'altra cosa che ho messo nel canale sempre nel canale Slack potrebbe aiutare magari non limita tutti i danni però può sicuramente permettere per esempio di non fare certe modifiche al layout solo cambiare il contenuto di un blocco tutto qui solo una precisazione nessuna domanda grazie ora devo riuscire a prendertene uno anche per te li hanno dati tutti una finta domanda anche per avere per avere il preventivatore mandaloriano sì volevo chiedere se i preventivatori sono disponibili anche per chi traduce Gutenberg in italiano sì sì fino a che ce ne sono l'importante è passare al nuovo credo e questo è importante io volevo solo dire una cosa Maurizio volevo solo dire una cosa facendo faccio parte dell'organizzazione di World Camp Europe siccome Elementor è uno sponsor importante e non ha ancora pagato se possiamo tagliare tutta la parte perché non hanno ancora pagato e se no il World Camp Europe quest'anno potrebbe saltare perché sono uno sponsor importante quelli di Elementor va bene sì io ragazzi ho preso un po' in giro alcune cose però voglio dire sono comunque ottimi progetti e in alcuni contesti sono assolutamente delle soluzioni funzionali importanti ed essenziali poi è ovvio che si fa un po' di ironia però deve rimanere intesa come tale sì fate un applauso a Maurizio che è stato anche l'MC di se stesso grazie a tutti 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 grazie a tutti